Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Rodrigo e oggi siamo qua in un nuovo video che parla appunto di iPhone ricondizionati, le vostre domande, le mie risposte e cerco di darvi appunto tutte le mie conoscenze che ho perché vedo che è un argomento che interessa la maggior parte di voi e magari tutte le conoscenze che ho sviluppato io in questo ambito possono essere d'aiuto magari a persone che si vogliono approcciare all'acquisto di un iPhone ricondizionato. Vi ringrazio molto per gli iscritti che mi state dando siamo già a 673 iscritti come potete vedere e per questo appunto vi ringrazio per il supporto vedo che vi piace appunto l'argomento dei ricondizionati quindi vi sto portando appunto un nuovo video spero di rispondere a tutte le vostre domande vi ricordo se magari qualcuno non è iscritto di iscriversi al canale attivare la campanellina perché arriveranno nuovi video magari ho in progetto anche un video di un iPhone ricondizionato da un altro sito che non vi ho mai portato purtroppo il video ma non è la mia prima esperienza comunque sia vi invito sempre a iscrivervi al canale attivare le campanelline e in più ecco diciamo vi ricordo se avete qualsiasi domanda qualsiasi dubbio perplessità quello che sia scrivetevi pure nei commenti la domanda che avete io cerco di rispondervi il prima possibile o magari anche alla community che c'è dietro al mio canale perché vedo che molto spesso rispondono anche prima di me io cerco di rispondere sempre il prima possibile se volete anche diciamo avere un contatto più diretto con me scrivetemi su Instagram anche lì basta che cercate il mio nome e il mio cognome e appaio anche lì con lo stesso logo appunto del canale quindi mi trovate partendo subito diciamo appunto di su cos'è un ricondizionato un ricondizionato non è altro che un telefono usato che può essere rotto danneggiato diciamo che vive la sua seconda vita quindi viene rimesso in commercio ci sono due tipi di ricondizionati i ricondizionati Apple che sono ricondizionati come nuovi quindi che non hanno minimo graffio sono perfetti hanno il cellophane originale display batteria connettore di ricarica tutto quello che possa essere anche la scocca viene sostituita con una nuova originale appunto e questi telefono sono scatole originali con accessori originali e hanno ecco diciamo una garanzia di un anno sempre originale Apple quindi vi da tutti i vantaggi che ha la garanzia di un anno Apple questo telefono ricondizionato appunto secondo me è il migliore che c'è in mercato l'unica cosa che appunto il costo non è poi così tanto vantaggioso rispetto al nuovo tant'è che avete uno sconto sì di 100-150 euro rispetto al valore diciamo del nuovo però ecco diciamo non è uno sconto vantaggioso come gli altri tipi di ricondizionati che ci sono in mercato gli altri tipi di ricondizionati che ci sono in mercato appunto sono quelli che vendono tutti i siti più famosi come Lombardo Shop, Trend Devices, Grosso Shop, iPhone Me o su Ebay o altri siti che poi analizzeremo ci sono veramente tanti siti c'è da perdersi sul mondo sugli iPhone ricondizionati per questo diciamo dopo vi darò i miei consigli anche su come acquistare ecco questi iPhone ricondizionati qua sono iPhone usati, rotti, danneggiati che provengono da fine contratto da una vendita ecco diciamo che viene fatta a questi siti qua anche all'ingrosso e quindi sono iPhone che magari possono essere danneggiati perché dipende dall'uso che ne è stato fatto precedentemente magari il precedente proprietario o i precedenti proprietari perché comunque la storia dei dispositivi ricondizionati non si sa ecco diciamo può averlo fatto cascare più volte magari in una delle volte non si è fatto niente oppure in una volta si può essere graffiato il vetro la normale usura dipende ecco da dispositivo a dispositivo ovviamente nessun dispositivo è uguale perché se tutti i dispositivi fossero graffiati nello stesso modo vuol dire che se qualcuno li graffia apposta altrimenti ecco diciamo è abbastanza impossibile detto questo appunto dopo va bene analizzeremo le condizioni questi iPhone ricondizionati quindi sono iPhone usati che vengono rimessi a nuovo quindi vengono non viene sostituita la componentistica diciamo principale quindi la scocca ma vengono sostituite magari le parti difettose come la fotocamera il connettore di ricarica il modulo wifi se c'è per esempio l'antenna wifi le antene quelle cose che magari danno problemi in un iPhone e la batteria anche lì c'è un altro scaglione da aprire ecco le batterie le batterie dipende dai vari siti dai vari rivenditori quasi sempre la sono quelle originali almeno che non sono con un numero di cicli elevati quindi per esempio arrivano a 400 i cicli della batteria sono il numero di volte che è stata caricata o scaricata ecco diciamo brevemente poi anche lì bisognerà aprire un'altra spiegazione ma cerco di far durare il video il breve possibile perché altrimenti diventa veramente lunghissimo e appunto il numero di volte che è stata scaricata però al più delle volte dipende anche dal livello di usura molti siti per esempio io faccio l'esempio a Lombardo Shop o a Trend Device non sostituiscono anche a Grosso Shop Lombardo Shop o Trend Device loro non sostituiscono la batteria almeno che non sia sotto l'85% che non superi i 400 cicli ecco diciamo di ricarica altrimenti tendono di lasciare quelle originali che non è male perché è molto meglio una batteria originale che una di quelle compatibili però purtroppo ahimè se una batteria è originale purtroppo la carica non la tiene al pieno quindi magari uno che sta sperimentando per la prima volta ad entrare nel mondo iOS deve tenere in conto comunque la sostituzione di una batteria fino al 2018 era vantaggioso il prezzo di 29 euro alla Apple perché la cambiavano con un originale adesso purtroppo costa 49 e poi costa 70 per il mi sembra adesso andate a trovare sul sito Apple il listino completo per l'iPhone X successivi comunque sia ci sono sempre i venditori di terze parti ecco poi dipende anche dal rivenditore perché anche ieri vedendo informazioni di Lombardo Shop Lombardo Shop vi garantisce anche l'assistenza sulle batterie in caso vi dia problemi anche questa è un'assistenza da prendere con le mani perché ovviamente se uno ha una garanzia di un anno dopo un anno dice beh batteria non dura più me la faccio cambiare giustamente se qualcuno c'è scritto dovrebbe essere così poi quello è tutto da vedere io purtroppo dopo vi raccontrò anche le mie esperienze con i vari siti perché ne ho avute parecchie come avete visto sul mio canale ma non le ho documentate tutte e ne ho avute tantissime esperienze ecco poi ecco appunto quindi quello che viene preservato pressoché è il display quindi se presenta grafico si viene lasciato quello graffiato almeno che non sia rotto viene sostituito lì forse è anche un male perché è meglio avere un display graffiato originale che un display sostituito compatibile e lì vi spiego anche perché ed è inoltre la batteria diciamo che potrebbe essere usata ma il punto principale che fa sì che il prezzo dei dispositivi ricondizionati sia basso è il fatto del livello di usura della scocca quindi magari ammaccature, graffi, scoloriture, dentature e così via o magari sia un pochettino piegato dipende appunto dal rivenditore come li valuta i gradi e questo diciamo è ancora da capire ogni sito, ogni rivenditore ha un grado parlando dei gradi ci sono i vari gradi che vanno dal grado A che può essere però anche il grado A+, A++ o grado top come si vuole chiamare comunque se è più, diciamo per esempio faccio un esempio Lombardo Shop li distingue in grado C, grado B e grado A mentre i for me per esempio da grado A, grado B o grado top quindi vi da anche la scatola con gli accessori, tutto completo mentre gli altri gradi negli accessori Lombardo Shop per esempio da anche gli accessori che sono compatibili mentre i for me da quello che dicevano appunto io non l'ho mai provato i for me però diciamo ho visto le recensioni che non sono proprio al massimo ma dopo parleremo ecco dei siti ecco e appunto Lombardo Shop da accessori non originali però c'è da dire che per esempio a differenza di i for me Lombardo Shop viene la pellicola vi dico poi anche dopo il prezzo facciamo un ragionamento completo mentre poi abbiamo Trend Device che anche loro li cambiano le loro gradi che sono low cost che sarebbe un grado B bar a C quindi un telefono molto rovinato però che vi arriva diciamo al miglior prezzo possibile poi abbiamo un grado A che è un telefono sempre con qualche graffettino a disposizione però ecco diciamo con un prezzo un pochettino più alto poi abbiamo un grado A più che sarebbe il telefono perfetto Grosso Shop anche lì non vi da la scatola originale se la volete potete acquistarla a parte ma su un altro sito che è affiliato a Trend Device che è appunto Buy Different che vende anche Mac diciamo è tutto comunque se volete potete andare sui vari siti ecco io ce l'ho qua vedete Trend Device ecco vi da appunto questa disposizione per esempio io voglio farla qui sull'iPhone X che è un prezzo abbastanza vantaggioso parlando poi appunto del ricordizionamento qua low cost appunto poi c'è smart e premium che sarebbe smart il grado A e premium il grado A più poi ovviamente vi fa pagare gli accessori però come potete vedere gli accessori sono originali cosa che io onestamente anche per il prezzo forse si è vero non converrebbe pagarli perché a differenza gli altri siti li danno inclusi però magari qua non sapete che sono originali perché poi parlando molti ho sentito vedere anche sulla community di iPhone Italia per esempio che c'è su Facebook molti hanno detto che gli accessori originali non danneggiano il dispositivo tutto affatto i cavi non originali lo rovinano e come ho avuto un'esperienza poi vi racconterò anche quella ecco appunto quindi ogni rivenditore che c'è classifica i dispositivi in modo diverso comunque grossolanamente ci sono i vari gradi il peggior grado c'è il grado D quindi che è completamente rovinato scocca, graffiata, ammaccata, piegata poi c'è il grado C che è molto meglio rispetto al grado D ma presenta ancora ammaccature, graffi, scoloriture il grado B che presenta sempre meno graffi cioè meno graffi, sempre meno graffi rispetto al C però comunque si è una via di mezza poi c'è il grado A che diciamo è perfetto poi ovviamente c'è il grado A più che è perfetto magari con anche la garanzia originale poi è un iPhone che è molto più nuovo e non è stato diciamo non è stato tanto usato e così via ovviamente ogni venditore lo classifica e così via ovviamente cosa cambia pressoché tra i vari gradi il livello di usura e le condizioni e soprattutto il prezzo perché ecco diciamo quando uno va a scegliere un iPhone X un iPhone ricondizionato un iPhone X ricondizionato diciamo lo fa più che altro per il prezzo e qui sul prezzo vorrei aprire un grande diciamo un grande dibattito perché purtroppo come vedete l'iPhone X per esempio io dico facendo ragionamento dell'iPhone X che stavo valutando gli altri giorni tra il device momentaneamente il prezzo è più basso io parlo del low cost ovviamente anche se mettiamo lo sgrado smart diciamo è sempre abbastanza basso contenuto rispetto ad altri siti per esempio Lombardo Shop l'iPhone X è vero che c'era soltanto grado A ma c'era 720 euro che a parer mio è una follia non dovete neanche acquistarlo lì da qualsiasi sito perché è troppo Grosso Shop ce l'ha già a molto meno basta andare appunto sulla sezione iPhone iPhone X ce l'ha già da 6,59 il 64 ovviamente sto parlando che è un grado A che forse è il prezzo diciamo un pochettino più giusto quello di appunto di Grosso Shop per lo che poi c'è iPhone Mi però che iPhone Mi anche loro qua vedete io adesso ve l'ho cercato diciamo voi potete tranquillamente riparere voi queste informazioni ovviamente i prezzi sono stabiliti a oggi domenica appunto 3 febbraio se noi andiamo sotto la sezione iPhone a parte che poi qua il sito mi si apre sempre in inglese non capisco perché però vabbè iPhone iPhone X eccoci qua vedete va da 6,89 a 7,79 ovviamente il grado B è questo qua che c'è disponibile 64 mettiamo un grado A esaurito tra l'altro non c'è neanche mettiamo un grado A questo è un grado A però vedete 6,99 si forse va ancora ancora senso comprarlo 6,99 però tenete conto che non avete la scatola io quello che vi dico per esempio è come dire io faccio un esempio trend device perché gli altri siti ancora non li vendono gli iPhone ricondizionati vedete vende per esempio l'iPhone XS ricondizionato a 8,89 per esempio questo qua Smart quindi con già qualche graffio però risparmiate col prezzo perché avete il colore a sorpresa poi parlando anche del colore a sorpresa perché è una cosa che a me diciamo fa un po' lì girare il pirolo perché non è che va molto d'accordo allora per esempio io adesso apro una nuova pagina io vi consiglio di andare sempre a cercare su questo sito qua pago meno non mi ha sponsorizzato nessuno di questi siti lo sottolineo sempre nessuno mi paga questa è sempre la verità che cerco di dirvi per esempio l'iPhone XS abbiamo visto stand device a 8,89 se io vado a cercare adesso qua iPhone XS 64 costa 9,05 vabbè dipende dal sito ovviamente io l'ho visto anche a meno Tecnozone ce l'ha quel prezzo qua 9,05 fantastico perché Tecnozone l'ho provato anche io avete visto la recensione l'anno scorso che era uno dei prezzi super ecco diciamo ecco diciamo qua pagamenti sicuri però adesso è un prodotto non disponibile purtroppo vabbè basta aspettare però è un prodotto nuovo con una garanzia italiana europea quindi ricordate garanzia Europa non cambia niente garanzia Europa è sempre la garanzia dell'Apple che è un anno poi ovviamente avete il secondo anno del rivenditore in questo caso Tecnozone però la garanzia di un anno ce l'avete è un prodotto nuovo sigillato ancora da attivare senza minimo raffio con accessori originali quindi tra 889 e 905 bisogna vedere ecco diciamo cosa vale ecco per esempio un iPhone X perché io vi dicevo non comprarlo assolutamente dal Lombardo Shop perché guardate quanto costa l'iPhone X 64 740 no con appunto 20 euro in più rispetto al Lombardo Shop vi portate a casa un dispositivo nuovo con una garanzia originale che non è stato mai aperto e appunto avete tutti i vantaggi sempre da garanzia Apple le avete accessori originali compresa anche la scatola 20 euro assolutamente li vale per chi magari vuole comprare un iPhone 7 e dite ma l'iPhone 7 costa 500 euro nuovo su questi siti qua c'è sempre un altro sito che ho trovato un mio iscritto aveva scritto anche su una domanda a me Reviva Mobile ad esempio è un sito favoloso secondo me perché vende gli iPhone ricondizionati ma nuovi questo non vuol dire che sono iPhone completamente nuovi sono iPhone ricondizionati che però sono messi in scatole che però talvolta possono essere sempre non originali le scatole con accessori che possono essere compatibili questo purtroppo non ci sa però almeno chi deve fare un regalo ha una scatola decente sigillata con accessori previsti dalla Apple questo io vi dico all'interno non ho mai avuto esperienza io volevo acquistare prima di acquistare dalla Lombardo Shop l'iPhone 7 da qua perché mi stimolava molto il fatto della scatola perché diciamo per me anche la scatola è il segno di un telefono perché un telefono senza scatola perde molto il suo valore come un telefono diciamo come una macchina quando uno fa già un incidente perde il valore la macchina o la tira fuori dalla concessionaria perde il valore cosa che per esempio una scatola con gli iPhone fa molto più valore però ecco diciamo nessun segno di usura a più più quindi è super ovviamente però qua però non hanno a disposizione tutti gli iPhone hanno un iPhone 7 7 Plus 8 però ecco e X purtroppo si c'è la scatola ma non ne hanno neanche una io l'ho vista però Reveo Mobile ve lo consiglio i tempi di spedizione sono lunghi quello che aiuta anche il mio iscritto potete vedere tranquillamente i commenti sotto i miei video i tempi sono lunghi appunto perché loro spediscono dall'Europa non spediscono dall'Italia o almeno non tutti poi può essere che qualcuno lo spediscono però avete assistenza eccoci qua appunto quello che volete chiudiamo questo sito perché non ci interessa quindi faccio vedere appunto che non aveva tanto senso comprare l'iPhone appunto X di Lombardo Shop parlando appunto dei vari siti Trend Device è un sito diciamo che onestamente è affidabile quello si ha venduto tantissimi dispositivi su quello si loro è un sito anche magari che se volete potete fare anche delle permute perché loro mettono appunto diciamo a disposizione il fatto di vendersi i propri dispositivi per esempio io qua posso andare dove vendi ecco qua infatti io posso per esempio faccio un esempio volessi vendere inizia qui voglio vendere per esempio un iPhone mi chiamo che ne so voglio passare voglio vendere il mio vecchio 7 ecco qua il 7 mi fa scegliere le caratteristiche il mio 128 il mio jet black come è purtroppo il mio 100 grado B è normale usura ecco diciamo perché così l'alimentatore è originale l'adattatore sono presenti l'adattatore sarebbe quello della sim purtroppo io devo dirti no perché a me non è stato venduto è acquistato in Italia no il mio proveniva dall'estero perché quelli che mi ha venduto poi vabbè qua vi dà la mail comunque potete avere tutti anche voi i vostri i vostri risultati potete valutare magari se venderlo qua ovviamente il prezzo sarà più basso rispetto a quello che magari potete venderlo esternamente però qui non dovete preoccuparvi di niente perché la spedizione è a carico di Trend Device e appunto è assicurato l'unica cosa magari poi ovviamente non è che il prezzo è quello viene valutato e se è giusto diciamo vi viene dato quel prezzo che avete concordato con il sito Trend Device è un sito che vende ovviamente anche ricondizionate aspettiamo che carichi la pagina qua come vedete per esempio io vabbè posso andare qui su iPhone noi per esempio stiamo valutando l'iPhone X perché comunque sia a un prezzo abbastanza buono su questo sito di partenza vabbè ovviamente qua 64 più 60 euro 256 quello è un altro discorso poi c'è il colore colore a sorpresa ma è una cosa che diciamo come avevo già sottolineato in un video quello dell'iPhone 6S è una cosa secondo me sbagliata è vero che magari uno dice ma io piuttosto di sbagliare 20 euro tanto il telefono viene coperto da una cover vabbè prendiamo il colore a sorpresa allora anch'io per esempio stavo vedendo per l'iPhone X siccome è bianco o nero sono due colori entrambi bellissimi a me piacciono per esempio non è che c'è una grandissima differenza tra bianco e nero per esempio qui il colore a sorpresa ha molto senso però mettiamo per esempio una persona un uomo che va a comprare io faccio un esempio un iPhone 6S che è quello che ha più colorazioni mette il colore a sorpresa mettiamo caso gli arriva il telefono oro rosa cosa fa? se lo tiene a vita o deve pagare altri soldi per fare il reso? perché molti siti vi dicono reso gratis no? però poi andate a leggervi sempre perché mi raccomando leggete sempre le condizioni contrattuali perché altrimenti poi vi trovate delle fregature ovviamente questi siti trend device non ne hanno però anche trend device per esempio ieri mi sono messo a leggerle per fare il reso dovete pagarvi voi le spedizioni in caso di perdita o danneggiamento o altro trasporto non venite assicurati ecco poi anche su Lombardo ciò faremo un'altra discussione stiamo parlando di trend device che io vi faccio i quattro siti più importanti diciamo quelli che vi consiglio anche da analizzare trend device vabbè vi fa scegliere il reso però vedete qua per esempio colore a sorpresa se mi arriva il telefono a rosa non ha tanto senso ecco diciamo questa cosa qua è quella che a me mi fa un po' diciamo un cavolare di trend device cosa che Lombardo Shop per esempio vi fa scegliere il colore quello è il prezzo quello è però vabbè ogni rivenditore non critico io perché ogni rivenditore ha il suo appunto il suo metodo queste sono le mie idee appunto potete essere d'accordo o no le condizioni vabbè quella non è un problema poi vabbè gli auricolari quello ci sta benissimo farli pagare perché non è previsto diciamo che vengano dati nessun rivenditore le dà ecco diciamo la cover per esempio è una cosa che a me mi piace sono carine le cover tant'è che mi piacciono veramente tanto cavo alimentatore anche vabbè questo qua ve lo fanno pagare però almeno sono originali sia gli auricolari che le cover ecco vedete qua ecco allora che dire per esempio io vò analizzando Trend Device a me è un sito che comunque sia affidabile perché comunque i prodotti arrivano dipende appunto ovviamente dal grado perché come potete tranquillamente vedere se poi prendete un low cost magari la spedizione ci impiegherà di più se prendete magari un premium arriverà molto più velocemente ovviamente col colore a sorpresa non potete scegliere magari molte caratteristiche per esempio il premium perché non è disponibile ecco fate attenzione qua in basso dove dice per esempio prezzo 1159 non fatemi imbrogliare dallo sconto perché questo qua è il prezzo del nuovo non è il prezzo del ricondizionato e poi è il prezzo molto non aggiornato perché comunque l'iPhone X nuovo comunque avete visto anche a me gli euro gli sono andato a vedere costava sugli 8 e qualcosa 8,90 mi sembra ecco questo qua comunque è un prezzo diciamo un po guardate sempre questo prezzo fate attenzione nel carrello che ci sia presente quel prezzo la Trend Device appunto vi inserisce gli iPhone in questa scatola qua che è molto bella in realtà protegge molto bene il dispositivo perché è studiata appunto per incastrare il telefono tra questa busta di plastica che lo proviene assolutamente meglio delle bolle appunto che mette gli altri venditori appunto dall'urto ma comunque si analizzeremo Trend Device in un altro video così via poi vedete qua anche ricondizionate informazioni utili ad esempio qua cosa significa iPhone X potete leggere appunto la batteria nuova in stato impeccabile che sia nuovo quella già montata non sono ancora ecco diciamo appunto poi parleremo di batterie parlando di Lombardo Shop Lombardo Shop avete imparato a conosce perché purtroppo quando ho comprato ancora vi dico un paio di anni tre anni fa esattamente su Trend Device il mio iPhone appunto non vi ho fatto il video perché ancora il canale non ce l'avevo o non facevo video ecco però anche lì è stata un'esperienza comunque positiva era un grado A più in quel caso quindi era perfetto non era neanche un graffio purtroppo la scatola non mi era stata data neanche a quel tempo Lombardo Shop ho acquistato parecchi dispositivi qua iPhone 6 A6S 7 ne ho comprate tre poi voi vi domandate ma che fine fanno tutti i dispositivi vabbè l'iPhone 6 l'ho venduto io poi privatamente gli iPhone 7 solo uno è rimasto gli altri due li ho fatti in regio perché erano difettosi e l'iPhone 6S ancora vive poi vi parlerò appunto dell'iPhone 6S e poi che altro dirvi poi non ho comprato più altri purtroppo da Lombardo Shop diciamo la qualità è quella che diciamo come gli altri condizionati ovviamente mantengono le loro scocche rovinate il prezzo è quello dei più bassi vedi per esempio qua iPhone X 780 per me secondo me è anche abbastanza però è vero vi danno accessori per esempio il prezzo del 32 iPhone 7 è grado A è molto buono 3,29 Lombardo Shop beh ha tutte le sue politiche fa spedizioni sempre con Bartolini o dipende dal corriere l'unica cosa appunto vi dico come mia esperienza che ci impiega sempre due giorni molti hanno detto è ma due giorni è giusto è vero che due giorni è giusto non è tantissimo però magari ecco una possibilità di avere una spedizione eccellente non sarebbe male come idea perché come per esempio Trend Device dà la possibilità a chi vuole una spedizione express magari con Bartolini in 24 ore si può fare basta pagare cosa che io avrei gradito molto con Lombardo Shop perché io avrei pagato ben volentieri di più una spedizione eccellente rispetto ad aspettare due giorni è vero che è incluso tutto gratuito il reso qui è gratuito però anche io non so dirvi ecco dipende dove acquistate perché per esempio onestamente dipende poi vi farò vedere purtroppo mi scuso se il video dura tanto però ecco diciamo Lombardo Shop l'avete imparato a conoscere sono quelli difetti le confezioni non sono al massimo ecco diciamo vengono imballate con quella bolle che diciamo non proteggono molto bene il telefono nel trasporto i test che fanno spesso capita e mi è capitato a me perché vi dico le storie brevemente il mio primo iPhone 6 è arrivato demolito come avete visto perché era veramente così non era un grado B era un grado D quel telefono là mi è stato sostituito appunto quello là appunto da garanzia vabbè con un altro quell'altro dopo ho durato tre mesi la mattina mi sono alzata non si accendeva più vabbè il telefono non funzionava proprio più non veniva riconosciuto dal computer me l'hanno sostituito l'unica fregatura appunto dell'assistenza che si è presente e che però sono tempi veramente eterni ci impiega veramente veramente tanto ecco diciamo Lombardo Shop perché due giorni in andare due giorni in tornare sono quattro più il giorno che fanno l'analisi sono cinque è stata una settimana senza telefono che non è proprio il massimo magari perché anche magari una stupidaggine deve andare a scuola ecco diciamo e quindi ha bisogno del telefono è veramente una cavolata secondo me potevano fare un sistema molto molto migliore però ovviamente purtroppo qual è il problema di Lombardo Shop che io critico purtroppo è che sendo aziende piccoline non essendoci ancora allargate hanno una grande massa di vendita purtroppo non si sono ancora riuscite ad adeguare però speriamo che lo facciano perché hanno tutte le potenzialità per essere diciamo appunto i migliori diciamo sul mercato i migliori per il momento a vendite sono appunto Trend Device che anche loro però si trovano appunto a Milano se non sbaglio non vorrei dire cavolato perché non ho visto dove si trovano loro mentre loro si trovano in Sicilia quelli di Lombardo Shop a tre castagni comunque sia potete tranquillamente vedere poi abbiamo Grosso Shop Grosso Shop purtroppo è vero che qua a grado A è eccezionale poi vedete anche quale recensione poi parleremo alla fine su come valutare un venditore il problema degli iPhone di Grosso Shop è che molto spesso sono iPhone che provengono dall'Europa quindi non sono iPhone italiani cosa che già con Trend Device è già un po' meno difficile Lombardo Shop è probabile però anche lì è meno difficile Grosso Shop sono proprio iPhone europei come avete per esempio se volete andare a vedere una recensione di iPhone di Grosso Shop andate su quella di iPhone Italia come ha sottolineato anche lì appunto il ragazzo di iPhone Italia anche lui ha detto che per esempio molti iPhone come l'iPhone SE in questione non aveva la banda 7 quindi per l'LTE perché era un iPhone del USA però ovviamente quello non implica appunto per nessun motivo il funzionamento l'unica cosa è che magari manca appunto questa banda dell'LTE che funziona però non funziona completamente al 100% funziona al 99% diciamo però è con una piccola screpoloratura ecco diciamo che poteva essere evitata spendizione vedete anche qua la pagata è 10 euro se volete l'Express o la standard che è gratuita però vedete qua per esempio adesso non so di invio se è in offerta perché l'Express costa così quella standard costa di più bisogna anche fare un attimo attenzione a quei vari problemi che ci possono essere magari offerte quello che sia comunque sia iPhone X il condizionato qua io non so perché la recensione di Galeazzi faccia vedere con le scatole però quello che ho visto anch'io che hanno appunto introdotto scatole appunto poi qua c'è il video quello che fanno potete andare a vedere però perché non date gli accessori originali non è chiaro il prezzo nel carrello e vabbè quello appunto che si può fare fare appunto i vostri i vostri controlli ovviamente questo video qua è molto veloce iPhone Me come abbiamo visto appunto non ve lo consiglio perché purtroppo non ha disponibilità quasi mai però vabbè è sempre anche quello un sito se volete dargli un'occhiata che dire poi per il resto i prezzi sono alti qua però ovviamente se dovessi scegliere io per esempio tra iPhone Me e Trendvice che hanno gli stessi prezzi più o meno un grosso shop sicuramente mi affiderei più che altro gli altri tre siti che è questo qua poi diciamo vabbè chiudendo iPhone Me che non lo valutiamo ci sono anche diciamo i siti che vendono su Ebay io vi dico ho comprato un paio di volte iPhone vi dico ancora iPhone 5S che purtroppo non vi ho mai portato il video sono affidabili quello si vende anche Lombardo Shop come potete vedere su Ebay e quello che vi dicevo in un video se dovete acquistare magari da siti come per esempio Lombardo Shop che vende anche su Ebay o su Ebay o su Amazon scusate volevo dire è quello di comprare su quei siti là perché perché purtroppo magari può essere che il venditore vi negli in assistenza una garanzia almeno avete una seconda voce in questione come Ebay o Amazon che hanno una garanzia formidabile su quello vi ricordo sempre se acquistate su Ebay o su altri siti di pagare con Paypal per avere un'altra garanzia anche diciamo magari il prodotto arriva rotto il prodotto è stato rubato e così via perché altrimenti non siete coperti da queste garanzie e quindi assolutamente quello è il top vedete qua c'è Twist che anche questo qua le vende abbastanza bene Lombardo Shop quello che sia ecco date un'occhiata anche a voi fate attenzione ovviamente ve lo ripeto come un'altra volta che ci deve essere il Touch ID come questa inserzione qua ve lo sottolinea cercate di prendere un iPhone con il Touch ID perché purtroppo siamo nel 2019 se prendete un iPhone 6 con il Touch ID o superiore quindi anche l'SE se non avete il Touch ID non potete usare Apple Pay o meglio potete ma dovete ogni volta inserire il pin del telefono non avete lo sblocco come dire prendere un iPhone senza Face ID non avete lo sblocco veloce dovete mettere ogni volta il pin non avete la sicurezza magari dico applicazioni come la banca che hanno bisogno del Touch ID per entrare dovete ogni volta mettere a passo è una scomodità che magari trovate da un'altra parte diciamo che vi dà magari gli accessori in meno però prendetevi un iPhone con il Touch ID poi vabbè date un'occhiata anche voi chiudiamo anche eBay perché non ci interessa ecco diciamo ho chiuso anche la grosso shop diciamo partendo appunto dal fatto che comunque sia anche io stavo valutando come sito è abbastanza affidabile ecco i prezzi sono anche qui un pochettino elevati però ci sono come vedete qua disponibili 22 articoli qua si può pagare direttamente con Paypal che non è male cosa che su Trendevice non si può fare adesso io chiudo qua perché è andato direttamente su Paypal magari fa pagare già direttamente non ci vuole allora lasciamo aperti questi due siti qua io vi consiglio come prima cosa per esempio se voi volete vedere la reputazione per esempio prendo Trendevice no Trendevice perché mi è andato su sito punto com adesso purtroppo si è sconnesso scusatevi un po' di problemi tecnici allora Google eh no è anche proprio Trendevice ecco magari trovare ecco diciamo qua recensioni shopping però qua per esempio a me non mi fa trovare niente cosa che per esempio magari vedete qua Trendevice recensioni opinioni degli acquirenti qua affidati di digital device vedete qua affidati ecco 91,5% recensioni positive bisogna andare a vedere più che altro più che quelle positive perché si sa che sono buone comunque sia non c'è da sperarsi tanto e quelle di andare a vedere appunto quelle negative adesso io magari vediamo qua se si può no non si può comunque sia oltre a questo qua affidati io vi consiglio di andare a vedere per esempio io faccio un esempio sempre con Google Lombardo Shop che ha la sua direttamente il suo punto diciamo ecco vedete qua Lombardo Shop ha 4,3 stelle no andare a vedere anche questa recensioni qua qui c'è anche la mia che è positiva anche se poi dovrei modificarla perché non è così in realtà come si sono comportati anzi tutt'altro quello che io vi consiglio per esempio è di andare su Trustpilot che è un sito favoloso secondo me perché qui potete mettere il nome di qualsiasi agenda per esempio Trend Device o per esempio Lombardo Shop Lombardo non c'è scritto eccolo qua Lombardo Shop punto it vedi ecco vi si apre la pagina vi dice che è selezionale ovviamente vi dice vedete avete recensioni però bisogna andare a vedere io vi dico non tanto quelle positive ma quelle negative per esempio io vado sempre a vedere quelle negative perché è il motivo per cui siamo qua quindi basta selezionare scarso ecco vedete si aprono qua ho questa d'un iphone 6 vabbè poi io vi dico la verità poi adesso parlando comunque sia vi dico sempre di andare a vedere le recensioni perché sono importanti quello che faccio anche su recensioni il video non vi aspettate ovviamente che le esperienze che fate qua o quelle dei video sono uguali alle vostre potrebbero essere ma come no come è inutile vedere anche i graffi vi faccio vedere questo è il tempo che è arrivato a me con questi graffi qua e qua però non è detto che il vostro telefono avrà gli stessi graffi come esperienza diciamo vi dico io ho costato molti dispositivi sull'ombardo shop sia per me sia per i miei parenti per la mia famiglia per anche amici che ho consigliato purtroppo io vi dico la verità non è detto che non acquisterò più però dopo l'ultimo acquisto con l'iphone 7 che diciamo non è stato per niente un bel rapporto sia con garanzie e robe varie purtroppo sono diciamo ho messo le mani in avanti nella non acquistare più per un po' da loro perché purtroppo le garanzie sì ci sono l'ho provata anch'io me l'ha andata però io ho comprato tre iphone 7 il primo iphone 7 black è uscito difettoso tant'è che non serviva neanche usarlo che diventava incandescente quel telefono non si poteva usare proprio mai poi l'altro iphone 7 jet black aveva quel graffio enorme sul display che tra un po' non si vedeva neanche quello che c'era sotto le scritte perché era enorme quel graffio là e poi anche quello là aveva un problema alla fotocamera l'altro iphone 7 che ho ottenuto alla fine si era perfetto esteticamente però anche lì il confezionamento non era quello uguale tutte le cose alla fine diciamo sto valutando altri siti non vi dico che è pessimo come sito da Lombardo Shop però il servizio che ho ricevuto io ultimamente è peggiorato io vi dico ho avuto occhi conoscenze con il titolare però come molto viene detto anche qua perché non è la mia esperienza c'è scritto personale arrogante cioè anche qua per esempio onestamente il display non era quello descritto il display non era quello descritto può succedere ma invece di tirarlo subito verificare mi hanno mandato 30 mail parlando in che modo è un po' arrogante pessima assistente mi chiedo un indizio per il ritiro ma per favore avete tutto quello che vi serve dato che non è la prima volta che compro da voi io sono d'accordo onestamente anche io con questo signore qua perché anche a me mi è capitato quando è stato per l'iPhone 7 nero anche a me è stato sempre in modo arrogante ovviamente io ho chiesto la motivazione perché ci impiegavano tanto a mettermi il reso dato che il telefono era arrivato appunto io l'ho scritto perché l'ho comprato tramite ebay ho scritto il mio feedback negativo tempi eccessivi per diciamo cos'era per il reso adesso non mi ricordo perché ho passato molto tempo o anche il telefono per esempio l'ultimo iPhone 7 che io ho detto nella recensione il confezionamento pessimo perché come si fa a mettere una busta sopra una basta capa con qualsiasi taglierino o coltello la rompe e non può più fare il reso fattura messa sopra piegata cioè una volta era molto più accurato il confezionamento io vi dico da quando ho costato con l'iPhone 6 super però purtroppo a me non è più quello di una oltre si vede che come vi dicevo prima il numero di vendite è aumentato così tanto che purtroppo non riescono a starci più dietro poi qua ovviamente vedete da qua non trovo verifica della sua recensione la verità della recensione ho acquistato un display i bucli e placche non sono vabbè tutte le cose qua per esempio io vi dico quello del modo arrogante purtroppo è vero anche al telefono ti rispondono così più delle volte mi è capitato anche a me ma non solo a me anche a mia mamma e su questo non ne sono molto contento poi anche qua per esempio uno che ha chiesto per esempio fa meno male che ho pagato con Paypal no e quell'altro fa non troviamo giusto che Paypal le abbia messo in reso perché secondo noi non è giusto per tutto l'ho danneggiato comprate assolutamente con Paypal perché Paypal vi dà la ragione Paypal vi dà la garanzia al cliente che è una cosa fondamentale cosa che Lombardo Shop secondo me io vedendo anche le recensioni non dà bisogna anche altri siti non le danno non dico che Lombardo Shop però fate attenzione anche a quello perché come Lombardo Shop ha minacciato questo cliente perché l'ha minacciato di andare alle forze dell'ordine perché l'ha minacciato e se dovrei trovare la recensione Gianni mi sembra che era lui dovrei trovarla comunque potete vedere anche tutte voi le recensioni onestamente non è un modo di lavorare corretto poi ovviamente non dico che Lombardo Shop non paghiamo siti perché come vedete 83% è soddisfatto solo il 5% è scarso io onestamente mi trovo una via di mezzo perché comunque sia devo dire la verità i prodotti si arrivano sono anche abbastanza buoni capita per carità qualche malfunzionamento però come esperienza personale vi ho detto l'iPhone 6 parlando dell'iPhone 6S che vi do anche un aggiornamento con l'iPhone 6S c'è la mio padre che lo saluto e lui lo usa quotidianamente diciamo anche con un Apple Watch associato e tutto lui l'unica cosa che abbiamo dovuto fare a distanza di 3 mesi che c'era col telefono perché c'era da luglio un po' di più mettiamo 6 mesi ecco arrotondiamo ecco l'unica cosa è la batteria il telefono è arrivato con l'85% di usura della batteria con 354 cicli perché io c'ero tutto storico perché quando è arrivato dopo ho fatto il video sono andato ad analizzarlo il telefono per carità era diciamo messo abbastanza bene dietro l'unica cosa che aveva era il display non originale che è pessimo il display che c'è col telefono è vero che è un display diciamo ricondizionato dell'Apple perché diciamo all'interno si vedono i propri flat del dispositivo che hanno il logo della mela però il vetro che è stato messo sopra con il polarizzatore che c'è sopra è veramente scadente perché il vetro non è per niente olofobico il polarizzatore basta che inclinate il telefono con gli occhiali da sole non vedete più lo schermo purtroppo è uno dei rischi di comprare i condizionati e la batteria che non durava niente diciamo quello che vi consiglio è sempre andare su ebay o su amazon con pochi euro ve la cavate ne comprate una batteria su youtube anch'io ho fatto un video che comunque potete seguire in linea e guida perché quello è quello che è diciamo pressoché oppure cercare il vostro modello e lo trovate è stata cambiata appunto la batteria e il telefono è rinato con 8 euro e 90 di batteria il telefono è ritornato al 100% ha ripreso tutte le sue prestazioni che diciamo prevede US 12 e tutto comunque sia il telefono ricondizionato sono sempre telefoni originali l'unica cosa che possono avere è che sono pezzi compatibili quindi non originali come dice qua per esempio i pezzi di Lombardo Shop una aveva detto sono paragonabili al giocato dei bambini cinesi purtroppo sono d'accordo anch'io perché per esempio il display faceva veramente schifo non si può dire di no perché onestamente è vero che è ricondizionato e tutto ma io ho comprato un sacco di display anche display economici da 5 euro ho comprato sono perfetti non mi hanno mai dato problemi per carità ovvio se uno va a comprare una cosa economica ci sta il pixel magari un attimino un po' più scolorito un po' più chiaro un po' più bruciacchiato magari che sia ecco diciamo non la tonalità perfetta però il display che c'era con l'iPhone là diciamo non so dire se l'ha messo Lombardo Shop o qualcun altro diciamo che magari aveva prima il telefono però la qualità era veramente pessima poi ecco devo dire la verità per carità anche i ricambi che vendono sul loro ebay sono i stessi che vendono sui telefoni vedere il prezzo la batteria per esempio 8 euro anche loro la vendevano una roba del genere vuol dire che non è di qualità perché vi dico anche la batteria che ho comprato per il 6S anche quella non è di buona qualità tant'è che è di una marca ultra cinese però fa il suo lavoro diciamo onestamente perché non vi dico che pezzi hanno scarsi fa il suo lavoro però ovviamente non vi aspettate una grande durabilità nel tempo tant'è che ne ho comprate due di batteria però vabbè non è quello il problema diciamo si può anche rimediare come garanzie tutti vi danno un anno chi vi da tre mesi chi vi da come cross shop due anni su questo è una cosa abbastanza positiva della garanzia perché potete su qualsiasi cosa fare valere appunto i vostri diritti se non vi vogliono dare la garanzia fate valere i vostri diritti anche con tutte le dei consumatori e così via purtroppo io ho visto che qua un lombardo shop diceva che appunto la garanzia decade con una caduta per me quello che dice lombardo shop è una cavolata perché se voi vendete gli obiettivi usati ricondizionati perché alla fine sono usati non tutti vengono rimessi con parti molti vengono rimessi in venta e basta perché se sono perfetti e funzionanti che senso ha di aprirli la garanzia decade dopo un accaduto dopo un urto allora cosa mi vende il telefono è stato magari già caduto più volte non ha molto senso ecco diciamo io posso capire se tu mi porti un obiettivo col vetro rotto non ti do la garanzia però ecco diciamo su quello anche le politiche andare a vederle bene quello farci sempre quando si fa l'acquisto farci sempre una coppia diciamo delle politiche da portare magari con anche i legali visto che purtroppo nel mondo ci sono molte truffe poi che altro dire questione batterie batterie purtroppo essendo telefoni usati hanno sempre avuto una vita se vengono sostituite è bene però sono batterie compatibili però almeno dovete evitarvi quella spesa là oppure se sono purtroppo quelle originali è meglio da una parte perché sono originali però ecco diciamo non è il non saranno perfettamente al 100% detto questo io più che altro dirvi come esperienza di Lombardo Shop io ho raccontato tutto perché è il sito che ho più esperienza sto valutando molto l'acquisto di un iPhone X non so ancora il sito perché come dicevo Lombardo Shop l'ho già escluso fatemi sapere voi se volete diciamo un altro video su appunto iPhone X ovviamente non per me perché io ho l'XS però ecco magari se volete qualcosa qualche video ancora che vi spiega bene comunque se vi arriverà un video unboxing diciamo e poi anche più avanti come si comporterà un iPhone X su questo qua poi non so dirvi se lo terrò così tanto per fare un altro video per portarvi ecco diciamo così iPhone X ricondizionato per esempio questo qua è quello che stavo vedendo questa qua è la mia configurazione che forse sceglierò appunto perché tanto non so se rimarrà e poi sicuramente non andrà a me eccoci qua comunque sia come 609 euro su Trend Device i miei consigli che vi do è quelli di seguirli su Instagram o magari iscrivervi alla newsletter perché loro danno molti sconti per esempio uno sconto a chi è benvenuto magari che si iscrive di meno 10 euro meno 15 euro se fate un nuovo acquisto così via oppure magari tipo non so Halloween meno 50 euro Black Friday devono anche per esempio sconti di 100 euro è formidabile cosa che per esempio secondo me Lombardo Shop dovrebbe puntare quelli che do magari sono critiche ma anche consigli che magari se qualcuno sta vedendo il video io dico di qualche azienda Trend Device Lombardo Shop che ho su Shop iPhone Me devono prendersi come una critica ma anche come consiglio doveva migliorarsi non assolutamente offendersi perché assolutamente sono scinti che se sono arrivati ad essere così famosi vuol dire che sotto qualcosa è stato fatto è stato un grande lavoro io per esempio vi dico non ho sponsorizzato mai nessuno non sono mai stato pagato da Lombardo Shop per tutti i video che ho fatto quello che vi ammetto appunto è che appunto mi è stato fatto un favore appunto quando è stato fatto cambiare il telefono il primo iPhone 6 dal titolare mi è stato cambiato avete visto la recensione che molti sono stati contenti perché mi è stato cambiato però basta l'iPhone 7 purtroppo mi avete visto l'ho cambiato anche tre volte perché come avete visto il secondo Jet Black che avevo comprato con il graffio là assolutamente non volevo tenerlo e basta condivido però con molti quelle delle recensioni il fatto dell'arroganza del personale quello purtroppo sì quindi se magari qualcuno qualche titolare di Lombardo Shop sta ascoltando che è assolutamente migliore quell'aspetto là poi ovviamente possono essere liberi di negare tutto quello che vogliono io non voglio assolutamente criticare nessuno e questo è detto questo io vi saluto e alla prossima un saluto da Rodrigo grazie per aver visto il video ciao a tutti ciao a tutti